e buongiorno fratelli e sorelle bianconere e non buongiorno a tutti gli appassionati calcistici purtroppo una notizia che non avrei mai e dico mai voluto comunicarvi è morto è morto purtroppo Gianluca Vialli nostro ex calciatore il nostro ex capitano che ci ha fatto alzare l'ultima Champions nel 96 a Roma è morto all'età di 58 anni per un male incurabile aveva un tumore al pancreas spero benissimo da quanto tempo stava lottando con questa brutta malattia Dio liberaci da questi mali era ricoverato in Inghilterra quasi due settimane fa aveva lasciato la nazionale lo staff della nazionale e io lì ho avuto come la percezione ho capito detto qua secondo me la situazione si è aggravata poi anche Massimo Mauro se non erro ultimamente le è andate a trovare e lì ho avuto la certezza secondo me Gianluca alla fine speriamo di no speriamo di no però poi così alla fine sostanzialmente è stato e niente io mi stringo attorno alla famiglia che purtroppo è stata colpita da questo dolore immenso e gli mando un bacio ma soprattutto un grandissimo abbraccio e niente amici purtroppo questa è una bruttissima notizia mai avrei voluto comunicarvela mai mai ci avrei voluto fare sto video qua ciao Gianluca e grazie di tutto